Ecco le prove della pazza successione testata a Belecchi, denuncia che ho presentato il 15 giugno 2019, protocollo 1855, agenzia dell'entrata, visura per soggetto, 4 giugno 2019, intestatare Massaro Caldino, Massaro Luca, Massaro Susanna, In tutti i santi, questa si contraddice, queste particielle si contraddicono con questa mappa, piani particolari espropri e con quest'altra qua, tavola di zonizzazione. Allora, questa è la denuncia che ho presentato il 15 gennaio 2019, 1855, questa 5 gennaio 2019, 1849, questo 15 gennaio 2019, 1852, all'agenzia dell'entrata. Quindi, nota, questi fabbricati di Massaro Caldino del 1987-2009 non esistevano, accatastato senza reggi, con inquilini dentro, non rimane che commissariare il Comune di Lucco dei Marzi. Questi patrimoniali...